Cristo è la parola, Giovanni è la voce, una voce che grida nel deserto di un mondo troppo piegato su se stesso, troppo impegnato nella ricerca del benessere, così da non rendersi conto della venuta del Messia, sono questi i nostri tempi, quanti cristiani vivono la dimensione solo materiale e dimenticano di curare lo spirito, l'imminente venuta del bambino Gesù ci invita la conversione, dobbiamo cambiare strada per arrivare a Betlemme, qualcuno nella tua vita ti ha ridonato la luce, aiutandoti ad uscire da una situazione difficile e guidandoti verso la luce, oggi proclama la buona notizia dell'imminente venuta di Gesù, se non puoi farlo con le parole, fallo almeno con la testimonianza della gioia cristiana.